Prima questo taser lanciato sui canali social della società, poi il comunicato che ufficializza il nuovo progetto tecnico dell'US Avellino. Salvatore Di Somma rimane come responsabile dell'area tecnica per la stagione 2020-2021. Inoltre è stato individuato in Piero Braia, il nuovo tecnico dell'US Avellino. Nei campionati professionistici, Braia vanta oltre 600 panchine con 5 promozioni ottenute. Dopo la prima con il Montevarchi della loro C2 in C1, il mister ha raggiunto traguardi prestigiosi rispettivamente con Catanzaro e Pisa raggiungendo la Serie B grazie alle vittorie nelle stagioni 2003-2004 e 2006-2007. Dopo le esperienze con Lucchese, Frosinone e Taranto, Braia nella stagione 2010-2011 si lega alla Juve Stabia. A Castellammare il tecnico è protagonista di un doppio trionfo grazie alla vittoria dei play-off e della Coppa Italia. La sua ultima esperienza professionale è legata al Cosenza, con i Silani vince un altro campionato di Lega Pro nella stagione 2017-2018. Così, il presidente è Angelo Antonio D'Agostino. Sono molto felice di inaugurare il nuovo corso dell'US Avellino con Salvatore Di Somma, punto di riferimento dell'area tecnica, e mister Piero Braia, un professionista con cui c'è stato enorme feeling sin dai primissimi momenti. Oltre ad avere grande esperienza, ha le idee molto chiare e non vede l'ora di mettersi al lavoro. Noi faremo di tutto per assicurargli tutte le condizioni per operare nella massima professionalità possibile. Queste invece le parole del direttore sportivo di Somma. Sono felicissimo ed onorato di continuare questa avventura con la famiglia D'Agostino. Insieme abbiamo valutato diversi profili ed abbiamo convenuto nell'individuare in Piero Braia la figura che meglio si sposa con quelle che sono le richieste tecniche, professionali e soprattutto umane che sono giunte dalla proprietà. Dell'arrivo di Piero Braia in panchina e del nuovo settore giovanile l'US Avellino ne parleremo questa sera alle 21 in un appuntamento speciale con Contatto Sport. Ospiti studio, il collega Rino Scioscia ed il responsabile della cantera bianco-verde d'allenatore dell'Under 15, Gigi Molino.